Sono in corso le procedure all'Aquila per la restituzione degli oggetti preziosi rubati da una gioielleria di Inisbruck. La refurtiva, del valore di 60.000 euro, è stata infatti recuperata dalla squadra mobile dell'Aquila al termine di una lunga indagine che ha portato alla denuncia in stato di libertà un 28enne Italo Nicarguense e un 35enne di Messina per furto aggravato e ricettazione di oggetti preziosi. La storia è iniziata nel gennaio scorso quando gli agenti della mobile, nel corso di un servizio di prevenzione, hanno acquisito l'informazione che i due uomini erano responsabili di un furto in una gioielleria estera. I due sono stati pedinati per alcuni giorni, fino a quando gli agenti hanno fermato il 28enne nei pressi della sua abitazione, mentre era a bordo di un'auto, poi risultata rubata alla ASL e utilizzata in città per compiere alcuni furti con sfondamento delle vetrine nei negozi. Nell'abitazione dell'uomo è stato ritrovato materiale di vario genere e numerosi oggetti preziosi. Alcuni giorni dopo è stato rintracciato anche il complice, mentre assieme ad un uomo ed una donna stava lasciando la città a bordo di un autobus di linea. Nella borsetta della donna sono stati trovati vari anelli ed orologi. Gli indizi acquisiti nel corso dell'operazione di polizia, con lo scambio di informazioni con le autorità di polizia austriache tramite il servizio Interpol, ha permesso di determinare con certezza che i gioielli sono stati trafugati da una gioielleria di Innsbruck, luogo in cui i due uomini avevano soggiornato verso la fine di gennaio. Grazie a tutti.